Adesso voltiamo pagina, traffico aereo, la compagnia Volotea, una low cost, punta sempre più su Fontana Rossa. Novità tra bilanci e nuove tratte sono state annunciate stamane nel corso di una conferenza stampa. Roberto Balsamo. Sono oltre 100.000 i passeggeri trasportati dalla compagnia aerea low cost Volotea nell'aeroporto Fontana Rossa di Catania in poco più di 5 mesi. Numeri che parlano da soli, che premiano la strategia intrapresa dalla compagnia che collega destinazioni di medie e piccole dimensioni. Risultati rilevanti grazie alla flotta di Boeing 717, considerando che la low cost opera nello scalo etneo da poco meno di un anno, dicembre 2012. In nove mesi complessivamente sono 117.000 i passeggeri trasportati a Fontana Rossa, di cui 75.000 nel solo periodo estivo, da giugno a settembre. Da Catania sono disponibili collegamenti diretti verso Venezia, Genova, Ancona e Firenze, con tariffe competitive da 20 euro a tratta, tasse incluse. La direzione della compagnia aerea stamane ha tracciato un bilancio sulla situazione con riferimento a Catania nel corso di un incontro ospitato alla SAC. Volotea, che ha già 66.000 posti in vendita per il prossimo inverno, intende colmare il vuoto lasciato da altri vettori come Winget e il dato riferito al capoluogo etneo è in continua crescita. I dati, che a gennaio si attestavano intorno all'1,6% del traffico totale dell'aeroporto, a luglio sono quasi raddoppiati, raggiungendo in percentuale il 3,1%. L'obiettivo è di proseguire in questo trend di crescita per consolidarsi sempre più anche nel territorio siciliano. A poco meno di un anno infatti dall'apertura dei nostri voli abbiamo superato i 100.000 passeggeri, abbiamo trasportato circa 117.000 passeggeri in nove mesi. L'obiettivo è continuare a crescere in tutta Italia, ma soprattutto anche da questo aeroporto, per questo motivo continuiamo la nostra presenza e speriamo di incrementarla ulteriormente.